Si chiama No Bull ed è il Comitato Popolare Spontaneo nato a Città Nova per dire no alle vacche sacre o ai bovini vaganti. A partitico, composto da professionisti, imprenditori, studenti, lavoratori e pensionati, per domani mattina ha organizzato una marcia di protesta contro il lassismo delle istituzioni. Un corteo che prenderà corpo in città e si concluderà lungo la SP1, la strada incriminata in cui sono avvenuti più di 100 incidenti nel corso di questi anni. E in un determinato punto della strada, c'è scritto nel manifesto di presentazione del lungo corteo, li aspetterà il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, incontrato nei giorni scorsi dal Comitato per discutere della problematica. A gennaio, fanno sapere quelli del Comitato, il prefetto incontrerà in un'assemblea pubblica la cittadinanza, l'amministrazione e tutte le forze politiche per fare il punto della situazione ragguagliare sulle soluzioni proposte dalla prefettura per risolvere l'atavico problema. Da 40 anni che si parla di vacche sacre a Cittanova con l'amare realtà che il problema dagli anni Ottanta fino adesso è ancora presente. Dietro questo fenomeno c'è l'andrangheta, è chiaro con il suo potere intimidatorio e riuscita negli anni a proseguire con questa attività che arrega danni anche alle culture delle olive. E su questo aspetto stanno indagando anche i carabinieri di Cittanova e Taurianova. Ci sarebbe anche un giro illecito di vendita della carne poi imposta alle macellerie della zona. Quelli del Comitato No Bull nel presentare l'evento di domani sostengono sulla loro pagina Facebook che Cittanova ha risposto alla mobilitazione. I rappresentanti istituzionali, le associazioni cittadini, le parrocchie, le associazioni di categoria, gli studenti indipendenti parteciperanno in massa al grande corteo civico a difesa della libertà del nostro territorio. Cittanova, scrivono ancora quelli del Comitato, dimostra ancora una volta di non essere omertose e di scegliere chiaramente ed inequivocabilmente da che parte stare. Al corteo parteciperanno anche i sindaci del territorio e tantissimi cittadini della Piana che ormai hanno paura di venire a Cittanova. L'appello del Comitato si conclude con un basta, con la libertà limitata. Riprendiamoci il nostro bellissimo territorio.